Era una notte calda e soffocante a Castel Caladan. La vecchia fu fatta entrare da una porta laterale condotta giù per lo stretto corridoio fino alla camera di Paul, dove potei spiarlo per un attimo mentre giaceva sul letto. Una lampada schermata era sospesa vicino al pavimento. Alla sua mezza luce il ragazzo, ora sveglio, scorse il profilo di una donna corpulenta in piedi sulla soglia, accanto a sua madre. L'ombra della vecchia era quella di una strega.